Storia di ordinaria sanità, quella accaduta ad una settantenne di Polla che in preda ad un infarto è rimasta in attesa di un ospedale per disguidi burocratici. Una vicenda avvenuta nel mese di marzo e che fortunatamente ora può essere raccontata dalla stessa protagonista perché, nonostante l'imprevisto, tutto alla fine è andato bene. La storia è iniziata quando la donna si è sentita male accusando dei dolori al petto ed è stata trasferita a Luigi Curto di Polla. Subito i medici del nosocomi hanno compreso che si trattava di un infarto e sono intervenuti con una provvidenziale installazione di un pacemaker temporaneo che ha reso stabili le condizioni dell'anziana. Da lì però è partito il peregrinare della settantenne. Non essendoci infatti a Luigi Curto il reparto di emodinamica, secondo la procedura la donna andava trasferita ed infatti è stata preparata e condotta presso il ruggi di Salerno. Ma proprio qui il personale dell'ospedale sarebbe caduto dalle nuvole, non essendoci alcun posto per la settantenne. Pare infatti che nessun avviso dell'arrivo della paziente era giunto e che invece un altro era all'ospedale in attesa di riceverla, il San Carlo di Potenza, il che avrebbe significato un altro viaggio di ore per raggiungere la struttura. Nell'incertezza del momento è intervenuto nuovamente Luigi Curto, i cui medici alla fine hanno trovato una sistemazione alla donna nel nosocomio di Nocera. Fortunatamente l'errore iniziale è stato recuperato, la settantenne tenuta sotto controllo durante i trasferimenti è stata curata e rimessa in sesto. Ma perché la vicenda andasse a buon fine c'è voluto il coinvolgimento di ben quattro ospedali e la consapevolezza che la nostra sanità ormai gira così.